Bella ragazzi, eccoci qua su Zanazon Zero, per la patch 1.1 io e Leifa di IGN USA, abbiamo rifatto un update enorme a tutte le grafiche e abbiamo dovuto fare delle modifiche ulteriori di recente, quindi ve le ripubblico tutte qua in questo video avete i timestamp in descrizione, non lo so, magari vi torna utile averli qua vi ricordo che le avete anche su Discord, le avete su Twitter, le avete su Oiolab vi lascio tutti i link in descrizione se volete avere un post dove guardarvele eccetera eccetera soprattutto su Oiolab sono molto organizzate e sul mio Discord chiaramente comunque, cambiamenti importanti, chiaramente c'è stato un nuovo engine per gli attacker che è un po' sotto lo Starlight Engine e in alcuni è sotto anche altre armi quindi non è niente di che purtroppo, però è un'arma che avete tutti, S5 quindi se volete sapete dove viene piazzata eventualmente altra cosa, calcoli recenti ci hanno fatto scoprire che il Penguin V è meglio dello Shark V per quanto riguarda il Team Ghiaccio, quindi vedete voi cosa volete fare, ho fatto un video dove ne parlo insomma dove avete tutti i numeri e su Discord avete anche tutta la tabella con tutti i Bangbu eccetera eccetera stessa cosa vale per l'elemento fisico con il Lucky Boom, con il... come si chiama? Il Bang Wolver qualcosa del genere, ok? Comunque anche quello è stato effettivamente modificato, cambiato perché non è male Lobster Pui, il nuovo Bangbu è buono ma è difficile consigliarvelo perché finora va in tutti i Team Anomali praticamente ovviamente, però può andare in tutti i Team che includono due dei Criminal Investigation però non ve lo riesco a mettere in grafica perché solitamente ci basiamo su Anomali ma comunque è un ottimo Bangbu che va bene in tutti i Team quindi se volete qualcosa di generico per la Criminal Investigation va sicuramente bene per il resto tutti gli update li trovate qua, incluse Jane che farà un video guida a breve su Jane Seth che trovate già un video guida su Seth e non no, direi che questo è tutto quindi spero vi siano utili, noi ci vediamo alla prossima, fate bravi Bella Ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.